Dunque il nulla in uno stadio sempre più vuoto e questa la grande sconfitta davanti a 2300 spettatori la lucchese strappa il pari senza alcun affanno, Delfino sempre più in crisi ma Auteri resta al suo posto Pescara senza capo né coda, l'11 biancazzurro non sa più vincere né segnare ma per farlo bisogna creare come minimo i presupposti neanche l'ombra, i numeri, appena 4 gol realizzati nelle ultime 7 gare, Coppa Italia compresa non c'è gioco, non c'è un'impronta, manca un'identità, la realtà è questa a prescindere dalle criticità di una rosa disomogenea e male assortita quelle poche certezze di inizio torneo ad oggi sono evaporate, i continui cambi di formazione e di modulo hanno confuso e disorientato la squadra se la formula difesa a 3, a 4 eccetera rappresentasse la panacea sarebbe tutto più semplice in realtà sono fondamentali tanti altri aspetti, distanza tra i reparti, atteggiamento, intensità, corsa, ritmo, garra nel Pescara degli ultimi due mesi nulla di tutto ciò, parlare di mancanza di cattiveria agonistica e come infilarsi nel porto delle nebbie e nascondere le vere problematiche in un clima oggettivamente difficile aver optato per la linea verde non ha pagato come aver tolto responsabilità agli esclusi che invece hanno molta più esperienza dei promettenti ma di fatto debuttanti Veroli e Chiarella senza poi considerare l'attacco leggero privo di una prima punta di ruolo Chiarella e Rauti a supporto di Dursi, scelta anche questa inizialmente sbagliata contro una difesa fisica, di struttura e un avversario votato soprattutto a chiudere gli spazi Ai Toscani è mancato un po' di coraggio, probabilmente un rimpianto in casa lucchese Il calendario sarebbe dovuto essere un alleato, invece appena due punti nelle ultime tre partite contro Teramo, Pontedera e appunto Lucchese, primo 0-0 della stagione 12 punti in altrettanti incontri, crisi conclamata, ambiente elettrico Sebastiani e Auteri asparamente contestati, squadra sfiduciata, al peggio, come si dice, non c'è mai fine